a Giovanni Falcone. Però dopo, dopo il bollo che ha ammesso la Cassazione, quindi hanno accelerato e hanno ritenuto congruo doveva uccidere Giovanni Falcone. Con Borsellino io ho lavorato fino all'ultimo venerdì della sua vita, ovvero il 17 luglio e del 1992, io ero a Roma la DIA, la Petizione Investigativa Antimafia, insieme a Paolo Borsellino e stavamo interrogando il pentito Gaspari Mutoro. Finito l'interrogatorio ci siamo salutati come erano già avvenuti nei altri due precedenti interrogatori, ne abbiamo fatto tre in tutto, ci siamo detti, ci vediamo il lunedì successivo e invece purtroppo, come voi sapete, la domenica il 19 luglio in Via D'Amelio, purtroppo Borsellino è morto con i miei colleghi, è morta la prima donna poliziotta. C'è un problema molto anche un appendice, anche magra, se vogliamo. L'arma dei carabinieri ogni anno fa un'agenda e ogni anno cambia il colore. Quell'anno l'agenda era di colore rosso e fu regalata al dottor Paolo Borsellino. Dottor Borsellino aveva due agende, una grigia dove ci annotava tutte le spese, persino anche il pacchetto di sigarette perché era meticoloso su questo, persino anche il prezzo del caffè che prendeva, quindi aveva questa agenda dove praticamente era costantemente aggiornata, minuto per minuto e poi aveva questa agenda rossa che dicono, io l'ho vista l'agenda rossa ma non l'ho letta in contenuto, perché quel giorno il 17 luglio e venerdì l'aveva, prima di iniziare l'interrogatorio l'ha sfogliata, ha guardato qualcosa di scritto, nel frattempo che lui leggeva due registrati che erano insieme a Borsellino hanno fatto una domanda che non avrebbero dovuto fare a Mutolo, il dottor Borsellino si arrabbiò tantissimo perché non era il momento per fare quella domanda, perché c'era una scaletta, lui si era fatto una scaletta agli interrogatori e interrogatori era, prima di tutto, le famiglie di Cosa Nostra, come le hanno composte, l'aggiornamento rispetto a quello che aveva raccontato un altro pentito, Buscetta, tra virgolette ho avuto anche, l'ho conosciuto, abbiamo fatto degli interrogatori assieme, quindi con Buscetta ho conosciuto anche Buscetta, e quindi in aggiunta a quello che Buscetta ci aveva raccontato, Borsellino aveva l'intenzione di aggiornare la mappa, la mappatura di Cosa Nostra siciliana, questo era uno dei primi obiettivi, poi l'altro obiettivo che ci avevano comunicato ovviamente a noi, alla direzione investigativa antimafia e a noi che partecipavamo agli interrogatori. Come secondo obiettivo erano gli omicidi, gli omicidi di mafia, sia eccellente, che sia quelli verso le personaggi dell'istituzione, magistrato e polizioni. Infine dovevamo trattare alla fine gli infereli, i personaggi che appartenenti ai servizi, appartenenti alla polizia d'estate, appartenenti alla politica, appartenenti a qualsiasi voglia di situazione, comunque in qualche modo erano coinvolti, erano traditori, erano praticamente i colbusi con Cosa Nostra, erano questi gli obiettivi. E mentre Paolo Borsellino guardava la sua agenda rossa, evidentemente c'era scritto qualcosa di importante perché doveva poi interrogare sulla scorta di quello che leggeva, doveva interrogare Mutolo, uno dei sostituti, faccio anche il nuovo perché ormai posso farlo, il dottor Natori chiese incautamente, a Gasperi Mutolo, se fosse a conoscenza di persone dell'istituzione comunque traditorie, comunque collusi con la mafia. Mutolo, preso così dalla spontaneità di raccontare le cose, aveva cominciato a fare dei nomi e li ha fatti. A quel punto Borsellino si è alterati, io non avevo mai visto arrabbiato in quel modo il dottor Borsellino. Tant'è che aveva la sigaretta accesa, non capendo più che ne aveva una accesa, ne ha accesa un'altra, perché non era per il momento, il programma doveva andare secondo il suo modello di indirizzo che aveva dato. Gli ho raccontato queste piccole. Passiamo alla strage di Capaci. La strage di Capaci, come vi dicevo, è stata voluta da un gota mafioso perché, appunto, la Cassazione ha confermato tutti gli ergastoli, in un'altra parte politica aveva dato assicurazione a Totorini che tutto sarebbe finito e non nulla come in passato era successo. Perché negli anni passati dovete sapere, ragazzi, che tanti processi di mafia sono stati fatti, sono finiti tutti con, per insufficienza di prove. E voi potete portare una caterva di processi che sono finiti con questa formula, che adesso non esiste più la formula per insufficienza di prove. Adesso questa formula è stata cambiata. Però tutti i processi di mafia, ve ne cito uno per tutti, potete andare a vedere per vostra curiosità, quella di Catanzaro. Se andate a guardare una sentenza di Catanzaro dove già c'era il signor Savatore Lina, vi rendete conto di come era una volta la mafia, che potenza che aveva. E l'arrivo di Chinnici, Falcone, Borsellino, Cassarà, Boris e Giuliano che hanno fatto l'affiscia dell'altro giorno e io non ho visto e non vedo perché non guardo film di mafia, non mi interessano, quindi non li guardo proprio per indole. Ecco, tutte queste persone sono messe contro la mafia e quindi hanno pagato quella vita. Permettetemi di fare un riferimento anche in onore alla divisa che indossa uno dei miei figli, che è un maresciallo dell'arma dei Carabinieri, comandante di stazione, e sono furioso di questo. C'è un altro figlio che fa il poliziotto, però vorrei ricordare un attimino la figura del generale Carlo Abelto della Chiesa, che ho avuto l'onore di conoscere a Palermo. E vi racconto una vendita che è significativa.